Annalisa con Sinceramente sono le 15 e 41, iniziamo questa seconda parte della puntata di oggi di Picnic, un dialogo tra le generazioni e come sempre siamo in compagnia in videocollegamento con Letizia che ci parlerà appunto di libri intergenerazionali come ogni giovedì pomeriggio. Ciao Letizia e bentornata a Picnic. Ciao Giulia. Che bello, oggi sei illuminata di arancione, ne parlavamo prima fuori onda, non abbiamo capito qual è il problema ma se siete curiosi di vedere Letizia illuminata di arancione andate sul canale 87 del Digitale Terrestre in televisione ma anche in streaming su rbe.it. Allora, tolto questo piccolo scherzo cominciamo con la nostra presentazione prima di parlare del libro. Letizia, per chi non la conoscesse ancora, è una ragazza appassionata di lettura che sta facendo quest'anno servizio civile presso il Centro Culturale Protestante e anche la Libreria Claudiana di Torino. Con lei di settimana in settimana, come oramai sapete, affrontiamo delle letture intergenerazionali per conoscere meglio le altre generazioni e le persone che hanno età diverse dalla nostra, ma alla fine anche per conoscere poi meglio noi stessi perché no, a volte succede di scoprire qualcosa di nuovo. Oggi in particolare approfondiamo un libro molto interessante che si intitola L'invenzione del boomer. È stato scritto da Matteo Bordone che è un giornalista e conduttore radiofonico e televisivo ed è stato pubblicato da pochissimo a fine 2023, novembre 2023, da UTET Editore. Ed è un libro che appunto quando Letizia me l'ha proposto ho subito pensato ma è azzeccatissimo per Picnic perché parla proprio di una generazione in particolare, i baby boomers e tra l'altro li mette a confronto, mette a confronto questa generazione anche con le altre. E poi fare un piccolo ripasso sulle generazioni non fa mai male visto che appunto qui a Picnic ne parliamo tutti i giorni. Ma quindi Letizia, prima domanda, domanda delle domande. Ma chi sono questi boomers? Ce lo racconto. I boomers sono originariamente coloro che sono nati durante il baby boom etimologicamente. Quindi durante quella crescita demografica che c'è stata dopo le grandi guerre mondiali. Quindi tra il 46 e il 64. In Italia però un vero baby boom non c'è stato. Sicuramente c'è stato un aumento socio-economico e delle condizioni di vita ma non è seguito questo un grande picco demografico così come negli Stati Uniti dove è nato il termine. E quindi qui il termine boomer ovviamente si è diffuso però ha preso anche una sfumatura più larga, più estesa. Quindi al di là dell'età anagrafica boomer è chi spesso viene chiamato boomer, chi agisce, chi pensa in modi che i più giovani, le nuove generazioni ritengono superati. E a volte anche ridicoli o con anche una vaga sfumatura di incapacità tecnologica ecco. Ed è una parola usata spesso con leggerezza per scherzare su noi, sugli altri anche al di là dell'età di nascita. Siamo tutti un po' boomer. E in questo libro Matteo Bordone scherza sull'uso della parola e analizza proprio come la nascita e la diffusione dell'espressione. E si chiede come mai si è diventato così virale, come mai abbia avuto tutto questo successo e che significati realmente abbia per chi usa questo termine. Brava, l'hai spiegato benissimo. Io ci provo ogni giorno a cercare di spiegare con parole facili che cosa succeda su internet. Insomma le parole che utilizzano i giovani, cosa vogliono dire ed è difficilissimo. Forse è la sfida principale di Picnic cercare di spiegare in modo conciso, concreto, che cosa vogliono dire delle espressioni. Anche questa qui che oramai è sdoganata e super utilizzata, appunto boomer, non è così facile spiegare in maniera concreta che cosa voglia dire. E quindi ti faccio subito un'altra domanda altrettanto difficile. Che cosa vuol dire l'espressione sei un boomer? Che appunto viene spesso utilizzata dai ragazzi per parlare agli adulti che spesso sono o poco tecnologici oppure faticano un po' ad adattarsi ai cambiamenti del presente. Però come hai giustamente sottolineato tu, siamo spesso tutti un po' boomer. Io voglia di raccontarci anche proprio da dove arriva questa espressione sei un boomer che si sente spesso. Sì, allora nel 2018 per la prima volta un post, un commento, un post provocatorio su Twitter riceve un commento ok, yeah ok boomer. E questa espressione ok boomer è quella che renderà diffusissimo e virale il termine. Non subito, ci vuole qualche tempo e soprattutto il successo dell'espressione viene grazie ai meme. E soprattutto a quel meme del cane che molti conosceranno, che ha quell'espressione un po' stupita, un po' contrariata, come noi diremmo cringe, un po' imbarazzata. A inizio del 2019, quindi questo meme, questa espressione prende piede su tutti i social e anche in modo internazionale. Viene usata in moltissime declinazioni. Viene usata anche da persone di qualsiasi età e riferite a un interlocutore di qualsiasi età. E a volte, questa è una critica che viene fatta nel libro, a volte questa espressione tende anche a negare un confronto, un dialogo. dire ok boomer è come dire ok, ho già capito la tua opinione che nasce dal modo in cui sei cresciuto, dal tuo pensiero leggermente arretrato, quindi non sto nemmeno ad ascoltarti e lascio il tuo commento così, senza un dialogo, in maniera tale che resti quasi per ridicolizzarlo, ecco, che resti esposto al pubblico in tutta la sua sgradevolezza. E l'interlocutore a sua volta si trova in questa situazione difficile in cui non solo non può dialogare, ma se si lamenta di questo diventa ancora più boomer. E quindi poi anche quando... Un serpente che si morde la coda. Sì. Stavo dicendo un cane perché hai parlato di questo meme sul cane, ormai mi è rimasto in testa. Andate a cercarlo se volete vedere di cosa si tratta. Basta scrivere ok boomer su internet e troverete subito questo simpatico cane che appunto ha questa faccia che Letizia ha definito un po' cringe, un po' diciamo imbalanzata dalla situazione. Sì, poi questo meme ha perso piede, non ha vissuto il suo declino come tutti i meme, che sono quasi delle bolle. Però sicuramente è rimasta chiara nel linguaggio l'esperienza di questo termine che viene usato ancora al giorno d'oggi. Boomer è quindi quel imbranato tecnologico o in senso più ampio, diciamo, chi interagisce con il mondo dimostrando di essere rimasto un pochino indietro. Chi fa riferimento al mondo magari con delle categorie di pensiero o delle modalità che sono antiquate. E oggi ovviamente non è più un'offesa, non esclude le persone nelle conversazioni, come invece magari all'inizio era inteso con un senso più aggressivo. Quindi come hai detto tu, siamo tutti un po' boomer. Io faccio un sacco di boomerate, anche l'autore del libro racconta di quando per sbaglio non sa usare, magari non trova un filtro su Instagram, cose così. Sì, hai ragione appunto. È nato per riferirsi appunto a questa categoria sociale, i baby boomers nati appunto fra la mettere gli anni 40 e la mettere gli anni 60. Però appunto adesso si è un po' slegato questo concetto da questa categoria di persone, quindi è diventato semplicemente un modo per chiamare appunto le persone che sono rimaste un po' indietro. E siamo tutti un po' boomer. Tutte le volte che ci capita di fare qualcosa non perfettamente appunto spesso legato alla tecnologia, ci sentiamo appunto un po' boomer, un po' indietro, un po' poco nativi tecnologici. E lo si utilizza spesso anche fra ragazzi della generazione Z, quindi sleghiamoci insomma dal concetto legato alla generazione in sé. Ha preso un po' vita propria nel tempo, le parole si evolvono, il linguaggio cambia nel tempo. Ma Letizia, tu prima hai detto che questa espressione boomer è americana, perché appunto è in particolare in America che c'è stato questo boom demografico negli anni 60. In Italia cosa è successo in quegli anni? Noi utilizziamo la parola boomer, ma c'è stato proprio il baby boom? Nel senso ci sono state tante nascite anche qui da noi? Sì, ma non un picco rilevante quanto negli Stati Uniti. Poi l'espressione boomer prima del 2019 non era mai stata usata in Italia, se non proprio come termine specifico sociologico per indicare le generazioni di quel periodo. Prima del 2019 in Italia non esistevano i boomers, esistevano i sessantottini. Tutte quelle persone che erano nate in un periodo di grande benessere, grande stabilità e speranza e tutte queste condizioni di libertà, di pace e di miglioramento delle condizioni socio-economiche avevano permesso di ribaltare il tavolo delle convenzioni, di ribellarsi. Quindi i sessantottini erano coloro che erano scesi in strada per le contestazioni studentesche, si erano battuti per battaglie femministe, riforme della psichiatria, approvazione di leggi come quelle sul divorzio e sull'aborto. Però nel tempo la concezione del sessantottino ha vissuto un cambiamento, nel senso che si è addossato a loro lo stereotipo di essere a volte dei perdigiorno, degli irresponsabili, allergici all'autorità, alla disciplina. E quindi si è spesso considerato il sessantottino solamente per i suoi difetti e non per i suoi meriti, anche perché poi è seguito questo periodo gli anni 70 e delle conseguenze, degli effetti più gravi, più spiacevoli. Quindi ai boomers sono state addossate tutte le colpe di tutto ciò che in seguito non ha funzionato, tutti i mali che hanno afflitto la società in seguito, come se fossero un capro espiatorio. Però non si considera il fatto che loro invece sono la prima generazione che ha proprio ribaltato, ha cercato almeno di ribaltare tutte quelle convenzioni sociali che erano state date per scontate, anche a livello ideologico, dalle generazioni precedenti. Certo, nel libro si parla poi anche di scontro generazionale, in particolare del rapporto che lega i genitori ai figli. Che cosa pensa Bordone? Insomma, come si comportano i genitori nei confronti dei figli e come si comportano i figli nei confronti dei genitori? Spesso i genitori appunto vengono considerati boomer nel senso letterale della parola, quindi un po' antiquati. Sì, il termine boomer ha molto a che fare con questa contrapposizione tra giovani e grandi, li chiama Bordone, ma anche tra figli e genitori. I figli vorrebbero decidere da soli, sbagliare da soli, prendere in autonomia e piena libertà le proprie scelte. I grandi invece hanno, sanno di avere la loro esperienza, quindi vorrebbero consigliare delle cose, vorrebbero indicare una strada e anche spesso una strada più stabile, più sicura. È il concetto un po' di giovenoia, che è una parola che è stata coniata da un sociologo americano nel 2010, unendo giovanile e paranoia, che è proprio quel mix di paura e di ostilità provato da una generazione più vecchia verso una più giovane. E questo scontro generazionale appare problematico nella relazione con i boomers, perché loro sono coloro che hanno già fatto tutto, cioè tutte le ribellioni a cui si possono appellare, che possono cercare di fare i giovani, loro in realtà le hanno già vissute in grande, proprio nessuno più di loro si è ribellato ai propri genitori. Quindi da un lato manca questo ostacco, questa distinzione tra genitori e figli, dall'altro l'hanno fatto in un periodo in cui c'erano anche molte più possibilità, molte più speranze. Quindi i boomers sono coloro che da un lato dicono, ok ti insegno a ribellarti, fai così, che non funziona perché non è una ribellione se è indotta da un genitore. E dall'altro dicono, svalutano la ribellione dei giovani, come per dire, ai nostri tempi sì che c'erano dei veri atti di ribellione. E questo appare molto problematico in questo scontro generazionale che però c'è da sempre, dall'inizio della storia. Sì, poi Bordone racconta un aneddoto molto simpatico in questo libro, che magari può spiegare ancora meglio che cosa vuol dire sentirsi un boomer oppure essere un boomer. Racconta di questo episodio che è avvenuto nel Parlamento neozelandese, che forse con un esempio si capisce ancora meglio ciò di cui stiamo parlando. Noi voglia di raccontarci questo episodio. Sì, nel Parlamento neozelandese una giovane deputata verde di 25 anni stava parlando qualche anno fa dell'importanza dell'implementare delle politiche contro il suo riscaldamento globale e un deputato ha cercato di interromperla. A quel punto lei ha risposto ok boomer. Il servizio di trascrizione automatico ha interpretato questa espressione ok boomer con ok burma, che significa ok birmania. E la cosa oltre ad essere molto comica è per di più un fatto super boomer, perché un giovane 25 anni tenderebbe a non usare il termine birmania, ma direbbe Myanmar, che è il nome diciamo non coloniale. Quindi da questo evento si capisce ancora di più il termine e l'uso del termine. Esatto, forse questo è proprio l'esempio perfetto per capire come viene utilizzato boomer al giorno d'oggi. Noi abbiamo fatto di tutto per provare a spiegarlo, nonostante sia veramente molto molto difficile tradurre a parole tutto ciò che si vive online, o comunque sia anche appunto come diciamo prima i meme che sono immagini. Tradurli a parole è super complicato e forse alla fine gli esempi sono il metodo più immediato per capirsi. Beh, siamo praticamente arrivati alla fine della puntata di oggi di Picnic, però prima di salutare Letizia ti farei ancora un'ultimissima domanda. Questo libro è intergenerazionale, perché in qualche modo racconta perfettamente di una generazione ed è un buon metodo magari che possono utilizzare i figli per capire i genitori, perché noi spesso parliamo di come i genitori possano informarsi per capire meglio i figli. Invece forse questo è il libro che può permettere di fare il contrario, ovvero ai figli di venire comunque più in contatto, più in relazione con i loro genitori, che appunto come dicevi tu vengono considerati grandi da Bordone. Sì, poi sicuramente racconta delle generazioni in quanto tali, nella loro contrapposizione eterna tra grandi e giovani, però c'è anche tutto questo intento, come dici tu, nel favorire un dialogo. Infatti nel libro vengono criticate sia le posizioni di coloro che, magari i più giovani, che dicono ok boomer nei confronti dei genitori, chiudendo a un dialogo, sia dall'altra parte i boomers che dicono no, noi lo facevamo meglio o fallo così, in questo modo, ai giovani. Quindi assolutamente, è proprio un invito a un dialogo, a un confronto. Beh, che cosa c'è di meglio per Picnic se non un libro che invita al dialogo. È veramente perfetto, grazie Letizia per averci parlato oggi dell'invenzione del boomer di Matteo Bordone. Potete trovarlo ovviamente in biblioteca, in libreria, e se avete il piacere di leggerlo poi potete scriverci un messaggino, mandarci un messaggio vocale e farci sapere che cosa ne avete pensato e poi magari la prossima settimana possiamo leggere i commenti e riparlarne insieme. Io ti ringrazio tantissimo Letizia. Ah, prima di salutarci, lo spoiler per la prossima settimana, quasi dimenticavo. La prossima volta parleremo di Exfansia di Valerio Magrelli. È un libro che è una raccolta di poesie pubblicata nel 2022 da Inaudi. Perfetto, facciamo un salto poi nel mondo delle poesie, però per oggi è tutto. Ci salutiamo, grazie mille Letizia per essere stata qui con noi a Picnic e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre il giovedì pomeriggio a partire dalle 15.30 per la rubrica Libri Intergenerazionali con Letizia, invece dalle 15 appunto con Picnic. Ciao a tutti, ciao Letizia e buon pomeriggio. Ciao Giulia. Grazie a tutti.